Noi abbiamo riscontrato che ogni anno incontriamo la sensibilità da parte della nostra clientela o di molta parte della clientela, soprattutto quando si tratta dei bambini, per questa iniziativa di donazione a favore dei bambini di famiglie disagiate che di conseguenza soffrono di questa povertà sanitaria. C'è tempo fino a domani per aderire all'iniziativa In Farmacia per i Bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava in più di 2.500 farmacie italiane, diverse delle quali nella marca, con l'obiettivo di raccogliere farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per bambini e ragazzi minori in condizioni di bisogno. Avviata ormai dieci anni fa, la campagna è oggi drammaticamente attuale. Purtroppo le situazioni che si sono venute a verificare negli ultimi anni hanno aumentato questa fascia di popolazione che ha questa difficoltà nel poter assicurare ai figli tutto quello che necessita. La pandemia, la perdita dei posti di lavoro, si sono verificate diverse situazioni critiche che rendono molto attuale questa iniziativa a favore delle fasce deboli. Una volta raccolti, i farmaci arriveranno a destinazione tramite associazioni e strutture che si occupano di famiglie in difficoltà o direttamente di minori.